e buongiorno a tutti come avete capito dalla popertina questo video in collaborazione con un altro canale sono molto felice perché è un canale greco è una ragazza greca che vive atene si chiama talia vi invito dopo questo video qua giustamente quando avete finito di guardare andare a guardare anche il suo vi chiedo di lasciarci tantissimi like iscrivetevi al canale se il mio che è quello di italia e andiamo a pulire prima di tutto metto tutto in ordine metto a lavare tutti gli asciugamani ora prima di tutto faccio lavatrice questo è il mio detersivo preferito non uso morbidente, uso acido cipollini l'ho dato delitamente nella schettata della morbidetta incomincio a dare una scopa elettrica dappertutto lascio reagire poi mi preparo un secchio con un po' d'amonieca ho preso un nuovo panno all'aurospin lo proviamo subito spolvero tutte le piastrelle sono molto curiosa come vestita la taglia perché lì ci sono diversi gradi qua ci sono 20 in grecia saranno 27 abbiamo fatto questo video nello stesso giorno la stessa mattina però in due paesi diversi in alto dopo la scopa dopo invece ci passo passo così qui Grazie a tutti. 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 Ho ripreso il secchio dove c'era una monieca finisco di pulire il bodeo con la stessa acqua dopo la butovia. Poi prendo il bodeo con il bodeo con il bodeo con il bodeo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il bodeo con il bodeo con le bodeo con il bodeo con il bodeo con il bodeo con il bodeo con la presenza di pulita. Buon appetito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche nella doccia passo sempre con via caldo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho Veleda Magical che è un idro repelente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.